Nasce in una famiglia di teatranti. La madre attrice e il padre amministratore di compagnie, debutta ancora bambino sul palcoscenico tanto da essere scritturato dalla Cines, per una serie di pellicole, del cinema muto, dove interpreta Fragolino, con gran successo di pubblico, che avrà modo di rivederlo in altre pellicole. Tratte dal libro Cuore, è uno dei primissimi e più prolifici attori bambini del cinema italiano. Presente tra il 1912 e il 1921 in ben 16 film, lascia in cinema nei primi anni venti per entrare da giovane attore nella compagnia di Antonio Gandusio, poi con Dina Galli, per formare successivamente una propria compagnia. Dopo la quale lo troviamo negli spettacoli Zabum, al cinema, ora sonoro, torna dal 1931, con la regia di Goffredo Alessandrini. Nel film La segretaria privata ed allora vi lavorera, ininterrottamente fino alla morte. Nel 1938, Leijar, lo scrittura per una serie di spettacoli. Dove ha modo di distinguersi per la sua comicità e per la bravura nelle imitazioni. Nel dopoguerra fa parte della compagnia di riviste comico-musicali delle sede Rai di Milano, recitando con colleghi come Erika Sandri, Carlo Campanini, Franco Parenti, Fausto Tomei, Liliana Feldman.